E tra un locale e l'altro dobbiamo prendere un caffè, ma che dico un caffè, un bel gelato, una bella crepe, che vogliamo mangiare Maria Cara? Allora io direi una bella crepe col gelato, che è una novità e stuzzica i gusti di tutti. Ecco, allora siamo da vero chiodo, il vero chiodo è questo perché ci sono altri, no? No, assolutamente no, siamo unici, inimitabili e il gelato come lo facciamo noi non lo fa nessuno. Né a Salerno né in provincia, è vero? Assolutamente sì. Com'è questo gelato così speciale? Che cosa è fatto? Quali sono gli ingredienti? Qual è il segreto? Allora il segreto è sicuramente ingredienti genuini, di prima qualità. E poi anche forse la varietà, perché vedo che ci sono tanti gusti. Circa 50 gusti di gelato qui in esposizione e 20 all'interno dei nostri congelatori, che di volta in volta alfermiamo e così sostituiamo, in modo tale che ci sono sempre gusti nuovi. Ecco, ne vedo tanti veramente particolari, vogliamo fare qualche esempio? Venite, venite a scegliere il vostro gelato preferito. Per esempio nocciotella con il kinderone all'interno. Quello lì è dei puffi? Quello è dei puffi. Per i bambini, ci sono due gusti per i bambini, sono riservati ai bambini. C'è Peppa Pig che ormai è veramente un'esplosione per i bambini. I puffi. E poi ci sono anche... Mi raccomando mamme, non vi preoccupate, anche se li vedete rosa, azzurri, sono comunque tutti naturali. Sì, sì, assolutamente. Buonissimi, fanno bene, anche il gelato fa bene, è vero? Sì, assolutamente sì. Noi vediamo un po' di immagini e poi ritorniamo qui perché io devo scegliere il mio gusto preferito. Un attimo, cioè l'imbarazzo della scelta, guardate le immagini. I started a war, and I landed on my own sword, wish I could take back those stupid things I said, how could I be so foolish? I called out to God, but the devil keeps answering. I'm trying every little remedy I can, but it's all just bullshit. Un attimo, cioè l'imbarazzo della scelta, guardate la scelta, guardate la scelta, guardate la scelta. La scelta, guardate le immagini e ora and poke far sand Second, guardate la scelta, guardate la scelta, guardate la scelta. Un attimo, can Randy, guardate la scelta, guardate la scelta. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ci sono tre gusti alla soia, anzi quattro con la precisione Sono senza lattosio, con latte di soia e con fruttosio anziché saccarosio Quindi anche un po' dietetico se vogliamo Assolutamente sì Allora, caffè, caffè, nocciola, fior di latte Adesso non è in esposizione ma abbiamo anche il cioccolato Wow, quindi veramente accontentate tutti Però anche più golosi, più golosi perché vedo lì croccotella, nocciotella, non so Croccotella e croccantino a rum con all'interno la nutella Buonissimo E poi c'è tuo padre che si diletta a creare sempre gusti nuovi Sì, c'è fantasia di pistacchio Che è pistacchio e mandorle Mandorle, mandorle, anche quello l'ho assaggiato Ragazzi, Rosario mi ha beccato mentre mangiavo il mio gelato Però ci sta tutto, anche perché Ah, c'è anche plasmon però C'è anche plasmon, sempre per i bambini Bambini, sì, sì E anche energizzante Sì Quanti plasmon abbiamo mangiato? Tanti, tanti Tanti Per crescere sani e forti, anche il vero chiodo mangia il gelato al plasmon Vabbè ma ci sta tutto Voglio dire, allora, però parliamo di cose importanti Dobbiamo ribadire e facciamo vedere le immagini del nostro laboratorio Perché, come potete vedere, la produzione è artigianale Sì, artigianale Tutti i giorni mio padre produce il gelato Quindi gelato sempre fresco, prodotti di alta qualità Tutti ingredienti genuini, sani Perché possiamo dirlo che il gelato fa bene E potrebbe anche essere un pasto per chi va veloce durante la giornata Sì, sì, tranquillamente Oppure se, prima di ritirarvi, dopo la discoteca Siamo molti clienti che sostituiscono il pasto al gelato Sì Se invece dopo, tra una discoteca e l'altra Oppure prima di ritornare a casa Volete fare una bella e sana colazione Non proprio, insomma Prima di andare a dormire Potete venire qui perché noi siamo aperti fino a che ora? A luna Fino a luna di notte e d'estate ancora di più Mi sa che ti toccherà lavorare tanto d'estate Perché oltre che noi portiamo bene di strassinotte Poi il prodotto è quello che è Penso che tutti farete un salto al vero chiodo qui D'estate ma non solo a sempre Allora, salutiamo dicendo Dove ci troviamo precisamente? Allora, siamo a Via Trento 90F Pastera, Salerno Maria Chiara, vi aspetta Vi aspetto In tanti, numerosi Ecco Salutiamo strassinotte e diciamo qualcosa Perché venire al vero chiodo? Perché fa bene alla salute E c'è Maria Chiara con allegria Vi accoglierà Mi raccomando Vi aspettiamo Caffetteria, bar, gelateria E tanto altro Tutto qui il vero chiodo Ciao Ciao